Sono questi manifestini apparsi sui muri di Sampolino che parlano di una caccia al tesoro organizzata dalle sue reoperaie in tutto il quartiere di Sampolino. Tappa alla Bar Blackout per raccogliere un nuovo indizio e via nuovamente per la squadra del quartiere. Giochiamo ad anticipo e girando per le vie del quartiere abbiamo trovato il tesoro? Non rilascio nessuna informazione. Neanche sotto tortura? Neanche sotto tortura? Sotto pagamento posso valutare la cosa. Valutiamo la cosa, intanto quantifichiamo il tesoro. D'accordo, il tesoro vale molto più dell'oro. Vediamo, vediamo, vediamo. C'è gente truccata. Speriamo che arrivino presto a prendere il tesoro. Bene, quindi questo è l'ultimo. Per questa videata ci devi 1000 euro. E puoi tranquillamente rilasciare entro domani al nostro conto corrente. Bene. Diaconia di Sampolino. Ci penseremo, d'accordo. Grazie. Ciao. Ciao. Ecco, qui c'è un altro gruppetto. Siamo con Piro Lentini. Cosa stanno facendo? Eh, qui, grazie al tesoro sempre. Qui devono fare una storia con cinque parole che sono state date. Devono inventare una storia. e ci sono due squadre in questo momento, tutte e due, che si stanno dando da fare. Vediamo come va a finire. La mia squadra, che è la B, siamo a buon punto. Siamo all'ottavo posto della via Crucis. Ne mancano ancora due. Ho capito. Allora ci vediamo al tesoro. Sì, 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 sicuramente. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Abbiamo beccato un'altra squadra in consultazione. E tante altre squadre che arrivano adesso. Nuovo inizio sicuramente. E tutti in cerca del tesoro. Ciao! Abbiamo vinto! Primi? Primi? No? Come no? Non è? Non è vero, Don Primi. Sì, è vero che è vero il primo. Sì, sì, è vero, è vero. È vero, sì, è vero. Sì, sì, è vero. Venga, mettiamo tutti l'altro. Non è vero, non è vero, siamo qua noi. Non ci credo. Dai, dai. Eh! Ci hai rubato. Tutti le mie sorelle. Dai, che cos'è in Apri? Oddio, c'è te i crami che... Perché è quella cosa che mi ha lasciato per fare il Corriere? Allora? Cosa ne facciamo di quello? Avevo perso. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Ciò! Ciao! 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 E non vale, non vale senza Matteo, non vale. E adesso aspettiamo che tornino o meglio rientrino le altre squadre, intanto che l'alfadre che ha vinto festeggia un po' e gli altri piano piano stanno cominciando ad arrivare. Alla fine ci sarà il festeggiamento finale. È un regalo. Un regalo bello per chi ha visto? Un regalo per tutti? Ci togliamo un palino? Ci togliamo un palino? Adesso il problema è che le cose muore. Mi metti tutti i ragazzi per il petto. È stato la mia. Abbiamo detto niente violenza, niente cazzo. Abbiamo detto qui! la mia la 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 l'alto l'alto la 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 Eccoli! Applausi! Applausi! Eccoli! Eccoli! Ma non hai visto che eri ultimi anni premuti? Vedete che verrete sommersi i bambini? Ed ecco l'ultima squadra che si aspettava e adesso finalmente tutti avranno il loro premio. E a questo punto possiamo dire che la caccia al tesoro qui a San Bordino, è un'amorazione del 14 lungo e sembrerà un'altra cosa. Chi ha vinto? Tra i giudici! Ne è una rocola! La squadra è qua, la squadra è qua, la squadra mia. Allora, la squadra c'è un po' vicino a su come squadra. Chi è la mia squadra? Chi è la mia squadra? La squadra è... B, B. B, B. No, io sono... La squadra B qui. B, 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 B. B, 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 B. A fuori lì! D'accordo, c'est Rutger. Vai là sua squadra, vai là concise. Allora, la squadra B qui qua. La squadra... E su, la squadra. La squadra è qui! La squadra è qui!